Rischiano un aggravamento di pena alcuni imputati dei 15 a giudizio nel processo di secondo grado sul crollo della palazzina venuto in via Roma a Berletta il 3 ottobre 2011 in cui morirono 5 donne, 4 operai e la figlia 13 anni del titolare. Ieri dinanzi alla Corte d'Appello di Bari la requisitoria della Procura Generale si è conclusa infatti con la richiesta di un lieve aumento di pena per alcuni imputati che rispondono a vario titolo di disastro colposo, omicidio colposo, lesioni colpose plurimi, omissione di atti d'ufficio e violazione di norme antinfortunistiche. In primo grado nel dicembre 2015 15 imputati erano stati condannati appena comprese tra i 5 anni e 6 mesi di reclusione e 4 mesi. Tra gli imputati 14 persone fisiche una società che rischiano un aggravamento della pena l'allora direttore dei lavori del cantiere l'architetto Giovanni Paparella. Oltre all'architetto Paparella sono imputati l'ingegnere Pietro Ceci incaricato per conto della Giannini SRL proprietaria del suolo in cui si stava lavorando, della progettazione sicurezza, il geometra Vincenzo Zagaria, Cosimo Giannini, legale rappresentante dell'omonima società, i fratelli Salvatore Andrea e Giovanni Chiarelli, dell'impresa esecutrice dei lavori di demolizione, due vigili urbani, funzionari e tecnici comunali. Secondo l'accusa il crollo fu causato dai lavori di demolizione della palazzina adiacente a quella dove c'era l'oppificio e dove erano lavoro le quattro operaie. Il destino volle poi che pochi minuti prima del crollo arrivasse anche la figlia dei titolari appena uscita da scuola. Nel processo sono costituite 50 parti civili, 43 familiari delle vittime, 7 traenti, associazioni e sindacati, tra i quali Regione Puglia e Comune di Barletta, il quale è anche costituito come responsabile civile. Nella prossima udienza del 2 marzo 2018 ci saranno le discussioni dei difensori degli imputati.